I ragazzi sono al lavoro ormai da 21 ore consecutive e i loro progetti dovrebbero essere quasi giunti al termine. Vi porto a vedere cosa hanno realizzato. Per loro sono proprio dei vincenti in aria. Ci dispiace per le altre squadre, ma allora quanto è brutto quando poi ti vedi che hai perso. Questa sarebbe la landing page, ragazzi. Esatto. Allora qui abbiamo rappresentato l'uncinetto che ha appena messo il suo primo punto e da qui parte poi l'headline. Le storie più grandi dell'alta moda iniziano da un punto. Di solito con un punto le storie finiscono, invece noi abbiamo ribaltato il concetto e in questo caso facciamo iniziare delle nuove storie, vogliamo raccontare una storia. Questi invece sono un esempio pratico di un biglietto da visita, diciamo. Esatto. Qui abbiamo sviluppato un concert dove attraverso il punto all'uncinetto abbiamo formato il simbolo dell'elemento forse più prezioso che c'è, ovvero il diamante. Questo per trasmettere il valore della preziosità del marchio. E l'avete intessuto in questa specie di telaio che avete ricostruito. Esatto. Attraverso questa griglia possiamo creare delle forme con il filo e personalizzare addirittura i biglietti da visita a seconda di chi lo riceve. Bellissimo. Bello. Grazie. Come va? Al lavoro ancora? Ci potete far vedere qualcosa della landing page già? Certo, ecco. Questo è il risultato finale, come vi è visualizzato sulla periferia, in questo caso su ETA. E questo è l'oggetto che vedo qui, invece? Questa è la nostra brochure realizzata con un progetto di cartotecnica con i fori nel visual e con tutto un insieme di parallelismi all'interno. E adesso su cosa state lavorando? Stiamo lavorando sulla landing page, è ancora work in progress, però vi faccio dare un'occhiata, magari. Abbiamo usato immagini grandi e una pagina web che deve avere un forte impatto emozionale. Avete usato anche i marchi con cui è più prestigiosi, con cui collabora il cliente. Sì, c'è una sezione dedicata al portfolio clienti. Vedo che qui siamo proprio sul pratico. Che stai creando? Stiamo realizzando un modello per la scatola che proporremo alla nostra committente. Appena l'avremo messo a conto, lo realizzeremo in grande con un cartoncino più spesso. Sarà una scatola per i vestiti, per contenere i ricambi e tutto quello che produce. Sì, come vedi, una riunione di zombie. Il tempo stringe, ci vediamo per il prossimo video con i progetti dei restanti gruppi.